L'incontro tra le organizzazioni sindacali e la Commissione del Lavoro è stato positivo e importante. Si affronta il tema dei lavoratori che rimangono a causa della riforma pensionistica senza stipendio e senza pensione. Noi vogliamo risolvere il problema di tutti questi lavoratori. Abbiamo già un testo di legge che potrà essere perfezionato perché si è deciso molto positivamente di costituire un tavolo tecnico di confronto fra la Commissione del Lavoro in modo unitario e il sindacato.